Scooby-Doo-Boo, where are you? Na-na-na-na-na-na-na, yeah! Scooby-Doo-Boo, where are you? Na-na-na-na-na-na, yeah! Allora, finalmente ho comprato anch'io l'ultimo Dylan Dog della serie regolare, il numero 440 dal titolo, e poi non rimase nessuno! Con questa copertina devo dire che cacchia di Dylan che si appoggia a questo teschio, fatta sempre dai mitici fratelli Cestaro che si occupano delle copertine della serie. In più, mi è uscito anche a me, come sta uscendo in tutti gli ultimi numeri della Bonelli, queste mini cover del cacchio, queste cagate cosmiche che la Bonelli si poteva tranquillamente sparagnare, solo per dirci che c'è stato l'ennesimo aumento di copertina, patapim, patapam, la vita, i costi, eccetera, eccetera, però il regalo di due anni fa, quello degli 80 anni, cioè le medagliette belle resistenti, fu assolutamente gradito. Questa è una cagata! Io ho preso quella del numero 100, la storia di Dylan Dog, ma quando incontro la prima volta Grauso, non dimentico mai una faccia, ma nel tuo caso farò un'eccezione. Mitico Grauso Questa storia mi interessava, questa di quest'ultimo numero, scritta da Luca Vanzella e disegnata dal mitico Giorgio Pontrelli, che io apprezzo quasi sempre. Finora ho letto soltanto il Dylan Dog Horror Club, l'introduzione fatta sempre dal curatore prossimo ad uscita, Ricchioni, che ci ricorda un po', sai, che è la prima storica... La storia è ispirata ai classici gialli, quindi ci ricorda che la prima storica autrice di gialli in cerca dell'assassino è sempre stata a Catacristi, però ci ricorda anche del Detective Conan, quello del cartone animato, e di Scooby-Doo. Anche Scooby-Doo in un certo senso appartiene allo stesso genere, cioè questo genere denominato Udanit. Chi è stato? Chi l'ha fatto? Chi è il colpevole? Dov'eri? Dov'eri? Qual è il tuo alibi? Speriamo che possa soddisfare questo genere, questo stile, e niente, insomma io ormai mi dedico ai fumetti in modo molto più sporatico di prima, però se trovo qualcosa di che cacchio, ecco, vedi questo giallo di Dylan in stile Scooby-Doo? E allora, non so resistere al fascino di Scooby-Doo. Scooby-Doo-Bee-Doo!